abbiamo preso l'istruttore di scuola guida come vedete della mobilizzazione civile di Firenze adesso gli facciamo un bello scherzo con uno dei nostri piloti che è Mirko Mirko Basso scuola distante con il Mr. Ax la cintura la cintura ci vuole ok ok partiamo con calma con calma con calma mi ho lasciato piano piano la frizione dato sempre un pochino più di gas e via via partiamo ok? dai rimettiamo in moto piano piano la frizione e sempre un pochino più di gas piano 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 lascia andare lascia andare la frizione ah 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 vabbò ci siamo dai 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 oh quando cambi levi la frizione e metti la seconda metti la seconda e la mia frizione ok? adesso incubai così? ok ok bene con calma con calma con calma ok 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 la macchina nello stesso pezzo delle altre ci siamo? occhio c'è un'altra macchina dietro se no qui si fa un macello c'è la gente no, mi hanno toccato gli abbracciati se no qui adesso passa la patente mi sa che ci si la può scontare non mi sembra proprio il sistema più idoneo mi sa che stiamo patente perché se no qui la patente si vede anche il 2800 invece di ora dipende molto bene qui noi ma tu li scomprendei anche i metri grazie a tutti 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 guarda che si parcheggia grazie a tutti grazie a tutti